E' ancora fermo in Commissione Bilancio, dove è stato depositato ieri il disegno di legge Stralcio con le norme tolte dalla finanziaria, su cui comunque ci sarebbero dubbi riguardo le coperture delle norme di spesa. Si tratta in totale di 24 articoli. Il presidente Vinciullo aveva convocato la Commissione ieri, ma dice che non ci sono ancora i pareri delle commissioni di merito, richieste dal presidente Ardizzone, per cui non abbiamo potuto esaminare il testo. Un DDL omnibus più che un disegno di legge Stralcio. Vinciullo aveva manifestato l'intenzione di convocare alla Commissione non stop anche di sera, ma Lars ha abolito i lavori notturni, sia ad aula che delle commissioni. Quella del disegno di legge Stralcio è una definizione tecnica, ma mai come questa volta carica di sostanza. Si tratta di un provvedimento, quantomeno del primo provvedimento del genere, che oltre a dare un indirizzo per il completamento della riforma delle province, tra gli altri punti dovrebbe far comprendere come mettere a bando i circa 12 milioni di euro previsti inizialmente nella ex tabella H, poi eliminata durante l'approvazione della finanziaria. In effetti i nodi da sciogliere sono molti, dal mancato finanziamento, dai servizi di trasporto e assistenza per disabili, ai fondi per gli insegnanti di sostegno per 15 studenti dell'Accademia dei Belle Arti. Da risolvere anche il nodo del finanziamento da 300 mila euro al Bras Group, il presidente della regione Crocetta si è impegnato in tal senso.